Chiaravalle, raccolta di generi alimentari della parrocchia Maria Santissima della Pietra. Si è svolta presso i due supermercati Crai di Chiaravalle la diciannovesima giornata nazionale della colletta alimentare. I volontari della parrocchia di Chiaravalle, sotto la direzione del parroco Don Roberto Celia, hanno raccolto i beni alimentari donati generosamente dalla comunità di Chiaravalle. Alla raccolta hanno partecipato alcuni alunni del Ferrari. Quanto raccolto sarà distribuito dal parroco alle famiglie più bisognose nei prossimi giorni. È importante la partecipazione attiva della nostra comunità in un momento in cui la povertà è sotto gli occhi di tutti. La carità diventa quindi un momento fondamentale, dice Don Roberto, ringraziando i supermercati Sinopoli e la comunità di Chiaravalle. La raccolta continuerà nelle chiese di Chiaravalle, quella del Sacro Cuore di Gesù e Immatrice, fino a martedì 21. Chiunque in questi giorni potrà portare beni alimentari e detersivi. Chiunque in questi giorni potrà portare beni alimentari e detersivi. Chiunque in questi giorni potrà portare tutti. Chiunque in questi giorni potrà portare tutti. Chiunque in questi giorni potrà portare tutti.